Tutelare ed evitare l'abbandono e la rovina di luoghi di grande valenza paesaggistica e storica. Nasce con questo obiettivo la richiesta formulata da tre comuni della provincia pescarese e rivolta alla sovrintendenza dei beni culturali di L'Aquila. In particolare stamane noi chiediamo alla sovrintendenza delle belle arti al paesaggio dell'Aquila di apporre una tutela e un vincolo rispetto alle tracce del paesaggio agropastorale del vessante nord-occidentale della Maiella che rappresenta un tratto identitario dell'intera regione Abruzzo. Avvertiamo l'esigenza di chiedere il vincolo e poi la tutela innanzitutto per un riconoscimento giuridico del valore paesaggistico ma anche storico-culturale di queste tracce e intendiamo questo passaggio come funzionale poi ad un programma di recupero e anche di valorizzazione di questi siti. L'ambizione è quella di tutelare lo stato materiale dei siti ma è anche quella di rendere la loro valenza un'importante attrattiva turistica. Il comune di Roccamurice vanta un primato numerico ma dico anche qualitativo perché al nuovo era circa 90 siti di capanne ma anche gli altri comuni, penso in particolare ad Abbateggio e ad Alletto Manoppello conservano testimonianze importanti di questo paesaggio agropastorale che fanno il paio con il paesaggio agropastorale in un'offerta di visita turistica o turistico-culturale assolutamente originale da valorizzare. Noi dobbiamo essere in grado di intercettare i flussi turistici in movimento all'uscita dalla crisi economica e dobbiamo differenziare e valorizzare la nostra offerta turistica.